Direttamente dalla cameretta magica oggi, 9 agosto, a recensionevo e assaggeremo le patatine dell'Ikea al gusto sul cream ed onion flavor, sarebbero al gusto sul cream e cipolla. Comunque in questo video volevo pure salutare Eugenia Saluzzi e le sue amiche Sabrina e Anita e anche Tuscany Livorno volevo salutare. Comunque adesso le apriamo. Vediamo un po' come sono. Buonissime! Votrano a 10 gli darei un bel 9, quindi ve le consiglio se vi capita di trovarle all'Ikea. Che dire, niente, ci vediamo alla prossima.